Musica Armato di un coltello da cucina con una lama di circa 20 centimetri si è autoinflitto delle ferite e ha coltellato il padre, 65enne, ex carabiniere in congedo e la madre, 59enne. Sulla drammatica aggressione in famiglia avvenuta venerdì pomeriggio a Gagliole, nel Maceratese, il sostituto procuratore Francesco Carusi vuole far luce sulle condizioni del 23enne Ivan Zamparini al momento del drammatico episodio. Per questo ha disposto esami tossicologici sul giovane. Le analisi hanno confermato che Zamparini era sotto l'effetto di un mix di sostanze stupefacenti, tra cui il fentanil, noto come droga degli zombie. Il giovane è ora accusato di tentato o omicidio aggravato nei confronti di entrambi i genitori. Sabato mattina si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto presso il Tribunale di Macerata, presieduta dal giudice per le indagini preliminari Claudio Bonifazi. Tuttavia il 23enne, che è ancora ricoverato all'ospedale Torrette di Ancona a causa di una lesione autoinflitta alla trachea, non ha potuto partecipare. Nonostante la sua assenza, il giudice ha convalidato l'arresto e accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha stabilito che il 23enne sarà trasferito in carcere non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno. L'esame tossicologico ha evidenziato che Zamparini aveva assunto una combinazione di fentanil a cannabinoidi e una quantità significativa di chetamina. Il fentanil preoccupa particolarmente, essendo un opioide sintetico estremamente potente. È noto per il suo effetto devastante sulla coscienza, inducendo chi lo assume in uno stato simile a quello di uno zombie. Fortunatamente le notizie sulle condizioni dei genitori del 23enne sembrano incoraggianti. Il padre, ricoverato all'ospedale di Torrette, sta migliorando dopo un delicato intervento chirurgico per le ferite all'addome e al torace. La madre, invece, è ricoverata all'ospedale di Camerino con lesioni meno gravi. Entrambi sono ancora sotto osservazione, ma non in pericolo di vita.